Presidente, di solito l'appetito vi è mangiando, però questa partita per voi non ha sorriso quest'oggi? No, purtroppo no, anche se devo dire, insomma, abbiamo fatto una buona gara. È stato fatto un turnover importante, chiaramente, insomma, il mister ha fatto giocare tanti giovani, giustamente, per dare minutaggio a chi finora non aveva giocato, però, ecco, forse sull'1-0 per noi potevamo gestirla meglio, insomma, mancavano 10-15 minuti, magari si sarebbe potuta gestire meglio per portare a casa il risultato, però, alla fine, l'Andrea ha meritato e quindi faccio i complimenti alla Fidelis per il passaggio del turno. Presidente, di solito queste partite danno la possibilità di mettere in evidenza i più giovani, quelli che trovano meno spazio. Qualche spunto interessante? Bene, ne ho visti diversi, sinceramente, perché comunque abbiamo fatto una buona partita, nonostante, ripeto, insomma, è stato fatto un turnover importante, quindi credo che, insomma, il mister abbia preso degli spunti importanti. Ci dispiace per il risultato, perché perdere non fa mai piacere, però va bene così, dai, ci concentriamo sul campionato. E Kuban come sta? Ha avuto un piccolo risentimento prima della gara e quindi, insomma, poi è stato sostituito all'ultimo momento. Penso che non sia nulla di grave, però per precauzione è stato tenuto a riposo. Presidente, ma le valigie sono per Messina o per Vibo Valencia? L'abbiamo capito? Ancora no, sinceramente. Non sappiamo, sappiamo che giocheremo con Messina, ma non sappiamo dove.